Ciao! Pronto, prontissimo, carissimo! Benvenuto alla prima serata di evocazioni per i sub assoluta di Onkai Star Rail. Sarai l'unico e inimitabile, il primo, applausone. Ciao, allora, siccome avete capito mio nome è Gabriele, in realtà, come Nick è uguale, per chi mi chiama Gab, chi mi chiama Gab, dipende un po'. E, ovviamente sì, pullo per Jingyuan, come quattro stelle. In realtà mi manca solo su Shang. Ok. Quindi, a Stingyuan ce le ho. Allora, per quanto riguarda 5 stelle, io spero di trovarlo subito. Ok. Se non arriva, diciamo, il 3 che preferisco, sarebbe Gepard, che sì, ci sta. E poi con Bronia, sì, Welter, magari non Bailu, ho visto che ce l'ho già. Ok, diciamo tutti tranne Bailu, più o meno. È comunque piccolo per me, è comunque nella zona da tutelare, quindi... Oddio! I Bailu! È stato bruttissimo! Sono spariti! Sono le 19. E lui! Emozioni fortissime! Andiamo a 56. Voglio una bomba di multi incredibile, voglio Jingyuan, la prima multi. Ok. E si va. Odio il fatto che dal biglietto già si veda, l'odio. L'odio. Benedetta, a me la pediatra diceva tante cose che non si sono mai avverate. Allora, vediamo un po' chi c'è. Su Shang. Su Shang, per favore. Doppio a Su Shang. Tripla a Su Shang. Quadrupla a Su Shang. E la mia donna. My girl, my girl. L'è fantastica. E Su Shang a casa. Andiamo a 66 con una multazza? Sì, sì. Sono abbastanza... Cioè, vado dritto. Siamo vicini alla zona calda, eh. Vittia. Caldissima! Quell'era un arcobaleno! Quell'era un arcobaleno, ragazzi! E si sleia subito! Col 5 stelle prima del Soft Pity! Col 5 stelle prima del Soft Pity! È lui, è lui, è lui, è il Jing. È il Jing. Sento già Zeus che tira i fulmini. È il Jing. Mega slei! Mega slei! Iniziamo, inauguriamo questa prima serata di evocazioni con un Jing Yuang grande. Genius Repose? Si stanno truccando, che carine. Jing Yuang! Jing Yuang! Jing Yuang! Slay! No! Dai, allora. Che poi va bene. Non si può iniziare già perdendo i 50-50. Geppetto, no! Vado a sconfiggere il suo mondo con il suo sosia. Maledetto Geppetto. Dai, continuiamo con i molti, dai, sì. 12. Io non sono molto fortunato con le singole. Jing. Please. 5 stelle subito. Buonasera, Teskett. Abbiamo ovviamente vinto il 51 vero. Abbiamo perso con Geppetto. Abbiamo perso. 12. Con un copia. Hidden Shadow. Multiplication. Machine Core. Eh! Ce l'ho nelle mani, ragazzi! Ce l'ho nelle mani. Mi dai solo una Shushang? Ma solo una Shushu? Ma dammi due 4 stelle. Dai, andiamo a 22. Dai! Jing Yuang pulito, preciso, subito. Dai! Dai! Perché no? Niente. L'abbiamo appena beccato lo 0,6% per l'amor del cielo, però. No, no, va bene. Due 4 stelle giganteschi. Alla fine beccalo quasi subito. Sì, dai. L'abbiamo beccato un po' in anticipo. Sono primo gemma. Eh, lei la voglio io, raga. Buona fortuna dopo. La mia Ting. La Ting la vorrei, ragazzi. So sincera. No, no, doppia Ting Yuang sta rosicando con una scema. Ragazzi, che multi. 32. Adesso che abbiamo trovato le Ting Yuang puoi uscire, Jing. No, non ci credo. No, non ci credo! Non ci credo! È lui! Ma anch'io voglio pullare così dopo! Oh mio Dio! Ma Slay! Ma che forte! Ma lo posso fare anch'io doppia Ting Yuang più Jing Yuang? È lui, Erudition. Che poi ti dice, è lui. Poi ti arriva Imeco. E ciapi. Sì, è vero, si sfoca prima dell'arcobaleno. Me ne sono accorta. C'è proprio l'occhio che balla. Allora, io me ne aspettavo di... Io me ne aspettavo di trovarla così presto. Quindi... Che rosic. Che rosic. Guarda che multi. Gabri! Guarda, strano che lo dica io. Perché di solito non si può dire. Hai fatto bene ad affidarti a me. Oh sì, provare con l'arma. Ti rendi conto che se sculiamo anche questa, poi la chat si arrabbia? Sarà per me un grandissimo onore inaugurarti il banner army. Andiamo a 10. Vediamo cos'è. Se viene fuori anche qua. Ok, dai. Una multi sobria. Tra l'altro questo banner army è molto buono. Perché ci sono anche le lightcon che sono tutte molto carine. Mi interessava anche quella di Dan Heng visto che... Sì. Ma tutta la roba che serve a me! Questo è quello di cui non ricordo mai il nome, Arlan. Che carino il cagnolino. Bella la splash art. Lui ce l'avevi? Sì, lui ce l'avevi. Sì. Oh, Planetari Rendezvous. Molto carina. Vieni, vieni dai. Oggi è giornata fortunata. Mamma mia. Si pulla bene oggi. Siamo patito bene, sì. Andiamo avanti, andiamo a 20. Lo sapete qual è il mio motto? Quando hai il culo davanti, annusa tutto e vai avanti. E questa è una grandissima situazione da annusa tutto e vai avanti. No, cos'è? No, non ci credo! Ah no, ok. Cos'è successo? C'è stato un obiettivo. Cioè, cos'è uscito? Un altro personaggio? Ah boh, non so. Se prendiamo... Ok. Planetari Rendezvous. Quindi c'è qualcos'altro oltre a Planetari Rendezvous? Chi c'è? Mai lagato per... Ah no, perché c'è Day One of My New Life. Altro equipaggiamento, devo dire, veramente molto forte. Questa qua, questa light con di Marce, l'esempio lampante di... Non c'è bisogno di avere degli effetti super fancy quando con due effetti in croce sei forte. Sì, sì, esatto. Andiamo a 30? Yes. Andiamo a 30. E già mezzo piti qua, te lo sei fatto? Quindi, no, non ci credo. No, 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 ragazzi, ma sono umida. Ma sono umida. Ma posso pullare così anche nel mio account? No, ah no? Ah, non si può. Solo negli account degli altri. Dai, vabbè, no, eh. Che scandalo. 3, 5 stelle! Erudition. No, non ci credo, l'hai presa. So troppo forte. Ragazzi, volete... Pullo io per voi su Star Rail. Ragazzi, pullo io per voi su Star Rail. Su Star Rail vi potete fidare di me. So forte. Cioè, guarda, mi permetto di farlo io, visto che abbiamo distrutto tutto. Vi è C'è Jing, guarda. Light con... Eccolo qua! Tac! Fatto! Eccomi! Buonasera! Buonasera! Buonaserissima! Applausone! Perdon! Perché parliamo del secondo ospite di oggi per la prima night di Star Rail. Applausone! Applausone! Ci dica tutto. Allora, oggi siamo qui. Innanzitutto c'è la mia bellissima Pela. Oh, Pela! Amo Pela! È la mia, diciamo, main, tra tante virgolette, il mio personaggio preferito. Siamo qui per pullare Jing Yuan. Io avevo 50 pull, ma poi ho raggiunto il Trailblazer level 35. Quindi alcune si sono aggiunte. Bene, bene. Ovviamente il mio obiettivo è Jing Yuan, però diciamo che andrebbe bene anche perdere il 50-50, perché in quel caso c'è l'uocia dietro l'angolo. Io sono molto per due sbagli. Bene, 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 bene. Vanno benissimo sia su Shang che Jing Yuan perché mi mancano entrambe. Anzi, non vedo l'ora di mettere le manine su su Shang perché adoro la sua ultimate. Bravissimi! Tutti del clan dell'uccello gigante! Bravissimi! Diciamo che l'opzione migliore sono Gepard e Kimeko. Così andiamo proprio... E nulla questo. Top, top, top. Andiamo a 56. Andiamo! C'è già il 5 stelle. Dai, bomba, bomba! Ma no, ma come? Ma come no? Ma oggi queste le attaccate le mani. 56. Dai. Non posso non pullare la mia donna pollo. Non è ammissibile. No, non la mia donna, quella che ho pullato tanta volte in forma di arma. Natasha, no! Yes! Oh, che bella visione. È arrivata subito. Rosico per ogni singola Ting Yun che evocherò perché sono Ting Yun che io poi non pullerò. Ci piace sta multi. Not bad. Andiamo a 66. Oh oh! C'è un obiettivo. Mi sa che è su Shang. Perché quello è l'obiettivo dei personaggi diversi evocati, no? No, oppure anche delle light con diverse. Però c'è qualcosa di nuovo. C'è qualcosa di nuovo tra di noi. Oh, che carini! I bimbi! Giuliano, Hook e quella con i capelli rossi che non so come si chiama. Però non so cosa fa questa. È un C la prima volta che la vedo, sinceramente. Eh, ma perché di equipaggiamenti chiaramente ne vediamo meno. Abbiamo praticamente tutti dato la precedenza al personaggio. Certo. È la seconda volta che trovo due quattro stelle, eh. Qua chat c'è della potenza. Vemmo, su Shang. No, ma io contentissima di su Shang. Non vedo l'ora di buildarla. Andiamo sul bordazzolo. E siamo sul bordo. Si fa attendere. Però, se si fa attendere, vorrà dire che è un 50 e 50 pronto a girare dal lato giusto della moneta. Anche io ce l'ho uno e ne ho beccata. Cos'è? Chi è? Ma è V di Ark Knights questo. Allora, la situazione è la seguente. Siamo a 76, quindi adesso il 5 stelle in una multi è praticamente garantito. Preferisci andare di singole, eh? Dimmi tu. Anzi, dai, facciamo qualche singolina. Vediamo se è quella vincente. Jingyuang, singola secca, 77, venire fuori. State a vedere la singola. La singola del destino! È lei! È la singola del destino! Ti prego, fammi vedere Erudition. Non farmi vedere classi diverse. Erudition! Erudition! E siamo tutti... E non Imeco. No. No! Uh! Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Una solidissima curatrice, quindi... Amore, vai Lu. Ciao, vai Lu. Quando esci da me? Jing, I want a back-to-back. Please. Non mi piacciono questi 50-50 persi. Mi ero abituata all'idea di vincerli sempre dopo Zila. Non mi piace aver ricominciato a perderli. Dieci. Marcetta! È la prima che pullo. Vabbè, prima o poi doveva arrivare. Sì, una Marcetta ci sta. Anche perché è zero, quindi ci sta, ci sta. E Marc è... Due. Va bene. Lei scala molto bene sugli Eidolon, stavo dicendo. Buttiamo tutto. Andiamo a 20. Allora dopo se vuoi andiamo anche nello shop ad attingere. Sì, sì, magari ne prendiamo una e facciamo l'ultima multi. Ah, sì. Bene o male dovresti arrivare a prenderlo garantito. Oddio, cos'era sto... C'è stato un lag, il coniglio mi si è bloccato. Oddio. Non è Fastweb che mi trolla, vero? Vivo nell'ansia di Fastweb ormai. Oh, queste sono Serval e il Geppo. Ma perché io pullo Gepard da tutte le parti, in tutte le forme? Non è un buon segno, eh, per oggi. Però piccola postilla. Abbiamo trovato un sacco di lightscon che non avevo. Eh sì. E la cosa mi consoro che far piacere. No, ma di roba ne hai, eh. Di roba ne hai. Anche perché trovando Tingyun e Sushang ho tutti i quattro stelle. Quindi posso comunque divertirmi. Ah, sì. Niente, andiamo nello shop a prendere l'ultimo biglietto. Sì, sì. Così facciamo l'ultima multi. Mi dispiace un po' perché non penso che utilizzerò Bailu. Bailu perché sono davvero affezionata a Natasha e c'è Luoccia dietro l'angolo. Eh, quello è il problema. Quindi se non riuscissi, nel caso non riuscissi a prendere Jingyuang, sarebbe Luoccia il mio, diciamo, specchietto delle allodole. Magari adesso faccio una multi e ne tiro fuori due di 5 stelle. Chi lo sa? Tu lo sai, vero Starrail? Tu me lo fai fare adesso, vero Starrail? Dai. La multi del destino. Oddio. Perché mi fa stilaga a caso? No, Neku, l'hai perso di nuovo. Mi dispiace, Neku. È strano che lo dica io. Sei stato un po' sfigatino. Mi dispiace, Neku. Seconda volta che lo perdi per Gepard. Però è sempre in early pity lo perdi. Cioè nella sfiga sei fortunello, però effettivamente è un po' sfiga. È un'altra marcetta, sei affezionata a te. Sei super affezionata alla marcia. Va bene, va bene. Anche perché è un personaggio super carino. Vuoi che ti diamo proprio tutti i biglietti o vuoi tenere da parte? No, magari tengo da parte perché faccio qualche multina, dai. Adesso in questa altra parte di patch. Allora facciamo così. Niente, buona fortuna o per Jingyuan o per Luocia. Vedremo come andrà. Grazie mille. E fammi sapere assolutamente cosa succede. Tocca a me. Allora, come zona stiamo qui. Perché comunque non mi dispiace come ho pullato, soprattutto le Tingyun. Ne ho pullate parecchie. Le mie risorse sono queste, ragazzi. Non ho più pullato niente dopo aver preso Zila di cristalli. E adesso vediamo come va. Allora, come Pity dovrei essere... Non sono a zero, perché Zila l'ho presa in una multi. Ah no, ma poi no, cosa sto dicendo, ragazzi? Io non sono a zero, io ho continuato per Pela. Ma è vero, ragazzi! Ma io non parto da zero! No, se non parto da zero, un Pity lo faccio. Allora, quello che mi piacerebbe è trovare il 5 stelle early, subito, con Tingyun. E vediamo un po' cosa succede. Ansietta, ansietta. Obiettivi. Tingyun, assolutamente. Jingyuan mi farebbe super piacere. Altri Eidolon di Sushang. Altri Eidolon di March. Vanno bene o male bene tutte e tre. La priorità però è Tingyun. Ragazzi, andiamo a 30. Io ve lo dico. Genshin, primo banner, fu quello di 20. Vinsi il 50-50 prima del Soft Pity. Qua ho vinto il 50-50 con Zila, ma al Soft Pity. Il secondo banner fu quello di Klee e mi andò veramente di sfiga totale, perché trovai Keqing al Soft Pity. Anzi no, Keqing l'ho trovata dopo, credo, verso gli 80. E poi ho trovato Klee. Purtroppo ho dovuto fare due Soft Pity, è stato un po' peso. Questa volta sono messa meglio a livello di risorse. Speriamo di riuscire a avere un buon risultato. Iniziamo cercando Tingyun, andiamo a 30. Ansia totale. Forza Tingyun! Forza Tingyun! Forza Tingyun! Forza Tingyun! Forza Tingyun! Che ansia. Per l'arma vediamo, ragazzi. Perché quel banner army mi piace molto. Vediamo come vanno le mie evocazioni. Dai Tingyun. Dai Tingyun. Grazie Muroro per la sub! Grazie per il bless! Mamma mia, sia Jing che la Trace! Che forte! Sì! Mamma mia, signori di amici di Maria! Mamma mia, amici di Maria! Mamma mia, che sniperina! Che sniperina la Giulia! Che sniperina! Che bomba! Non l'avevo! Non l'avevo, eh, Bliss! Mi mancano lei e Arlan! Adesso me ne manca uno dei quattro stelle. Andiamo a 40. Ragazzi, un piti lo faccio. Un piti lo faccio. 40. Jing, se vuoi uscire prima, fa sol che piacere. 40. Tanto gli idolon vanno bene. C'è Su Shang, che è la mia prefera, ragazzi. La mia Su Shang è già i due, eh. È già gigante. Su Shang, Su Shang, è la donna dell'uccello, è proprio lei. Te lo tira in testa e, manco fosse un martello, perché grande, 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 il suo uccello. Ok, la smetto. E tre! E tre! E tre! Yes, Su Shang. Tra l'altro è uscita presti... Chi è questo? Questo è Sampo. È per Nihility, quindi, questo. Eyes of the Prey. E questa dopo devo vedere cosa fa, non ce l'ho. Bello doppio quattro stelle. Mi è piaciuto il doppio quattro stelle. Saporoso! Andiamo a 50. Farò un piti. E basta. Poi metto da parte, perché dovrò pullare per la quattro stelle da Luoccia. Ok, quattro stelle. Grazie, Ro, per i beats! Ma qualche parte l'hai train! Proprio nel momento migliore! Arat, grazie mille per l'abbonamento! Vediamo un po'. Su Shang! Su Shang! È diventata... E quattro la Su Shang! Mena più forte lei di tutto il Manchester United! Quanto è forte, forte, forte la Su Shang! Su Shang mi vuole veramente bene, ragazzi. Ma è veramente un amore reciproco. Mi piace questa cosa. Mi piace un sacco questa cosa. Mi piace avere un minimo di amore reciproco con la mia prefe. Zona calda. Dai, Jing, puoi venire, eh? Puoi venire, eh, Jing? Non defa il timido. Puoi venire? Su Shang! Chi è? Su Shang? Tingyun vista una volta, poi più vista, eh, ragazzi. Capite perché festeggio? Su Shang! Su Shang, potrei denuda... Eh! Ho ritrovato quella di Arknights che abbiamo pullato prima! Trend of the Universe... Ah, tra l'altro questo è Preservation, ragazzi. E io ho poca roba Preservation. Andiamo a 70. La situa si fa calda. Ok, mi sa che il Jing vuole fare come Zila e vuole uscire a Soft Pity. Non la conosco l'arma di Su Shang... Di Su Shang, di Su Shang. Allora, Pesky. Dotting Arrow. Pesky. Arrow. Su Shang! Io con Su Shang spacco tutto. Io ho già vinto il gaccia! Brava Su Shang! Adesso vado di singole fino a 75. E poi la Mega Multi. È vero, ma che è 4? È 5! È 5! La mia Su Shang è gigantesca! La mia Su Shang è suprema! Andiamo di 5 singole. E poi Multazza. Tecnica su Ica. 72. Mmm... Shoo! 72. Sono risorse free to play più il pass, quello piccolo, da 6 euro. Che è l'unica cosa che ho comprato. Non ho preso e non prenderò il Battle Pass. Però sì, quindi sì, sono... Considerate che il pass, quello piccolo, dà, mi pare, una multi e mezzo in più. C'è una multi e mezzo in più. Per il resto è tutto free to play. 73. Ah, io devo ancora esplorare! Io devo ancora raccogliere un sacco di scrigni. Devo ancora finire il Forgotten All, quello base. Io ho ancora un sacco di risorse in gioco, eh, ragazzi. Sarebbe meraviglioso, ragazzi. Oh, c'è un 4 stelle! Chi è? Marcetta! Marcetta e 2. Mi va bene una marcetta. Tingyun ne ho trovata una. Una. Prima multi, eravamo ancora carichi con la fortuna di prima. Poi si è esaurita. Per fortuna che l'ho trovata. 75. E ragazzi, siamo sul bordo. Siamo sul bordo. Però non mi piace questa cosa del simbolo. Jing più Bailu. Jingyuan più Bailu! Cioè, mi defenestro dalla gioia. Andiamo a 85. Multisecca tecnica su Ica. Jing. Jing. Ho due gatti in casa. Sono appassionata di gatti. Ho una corona dietro il collo tatuata con quattro zampe di gatto. Tu hai un leone. Bene o male, la storia è quella. Vieni. A casa mia, i leoni sono sempre bene accetti. Vieni, caro. Vieni, caro. Oddio! È un personaggio nuovo! Non è Velt! Non è Velt! E uno l'abbiamo escluso! Non è Velt! Non è Velt! Non è Velt! È nuovo! È nuovo! È due 50-50-20! Due 50-50-20! Due 50-50-20! Due 50-50-20! La regina dei 50-50! La regina dei 50-50! E tra l'altro è uscita subito a 76! Quindi ripartiamo anche con un bel pt alto a 9! Chiascini salutiamo io e mia! Guarda, mei... Vengo lì! Era quella che volevo dell'altro badder! Era quella che volevo dell'altro badder! Quella di Da Nang! Quella di Da Nang! Che volevo pullare di là per questa! A posto! A posto, ragazzi! A posto! Dammi anche un altro 4 stelle! Io urlo, eh! Io urlo, eh! Ma che multi! Ma che bello! Ma che bello, ragazzi! Jingyu Hag! Più quella di... Più la Lightcon di Da Nang che mi serviva! Sono contentissima! Ragazzi, ribadisco! 6 euro speso! Non ho ricevuto risorse da Oiove! Zero! Quelle che ho usato oggi sono tutte risorse che potete ottenere anche voi! E tra l'altro me ne avanzano anche, quindi considerate quelle che mi avanzano come quelle che ho acquistato con il pass! Il banner army credo che lo salterò anche questa volta perché è successa una serie di eventi molto fortunelli, ovvero che mi serviva una Lightcon per Preservation e ho trovato quella della tizia che sembra Woody Arknights! Mi serviva la Lightcon di Da Nang e l'ho trovata nel banner personaggio! La Lightcon di Asta è molto interessante, però non pullo solo per la Lightcon di Asta! E quindi, ragazzi, mi sa che salto di nuovo il banner army! Mi dispiace perché l'arma di Jing Yuang è veramente forte! Ma questo team! Ma questo team, ragazzi! Ma questo team! 6 euro! Guardate che team! Ma che bello! È troppo bello! Sono troppo contenta! Sorriso a 32 denti! No, vi giuro, mi sta... Mi sta volendo troppo bene questo gioco! Tra l'altro, mi sa che ve la faccio la guida di Jing! Sì, grazie a tutti!